Ciao, oggi vi preparo delle costiccine di maiale fatte in pentola a pressione. Iniziamo mettendo le nostre costiccine dentro una pentola a pressione. Aggiungiamo poi abbondante pepe. Sale. E aglio in polvere. Mescoliamo il tutto così che tutte le facce delle costiccine siano ben ricoperte dalle spezie. Aggiungiamo ora due cipolle tagliate a quarti. Una tazza di brodo. Bene, a questo punto andiamo a chiudere. E la mettiamo sul fuoco. Ci vorranno 40-45 minuti da quando fischia. Allora, dopo mezz'ora che è sul fuoco è sempre bene fare un controllo delle costiccine per vedere se hanno ancora sufficiente acqua. Io l'ho fatto e era a posto. Adesso sono passati 45 minuti e andiamo a togliarlo. Bene. Non resta che servire. Trovate tutti gli ingredienti e altre istruzioni sul sito informacasa.it Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Grazie all oversti.